Bagnata la vigilia della Sue Giuma, domani mattina il gruppo sportivo Virtus dà appuntamento a tutti per la gara amatoriale che giunge alla 46esima edizione. Alle 9.30 il ritrovo mezz'ora più tardi, sempre al monumento ai caduti, lo start alla gara gialloblu. In piazza Municipio, a Campobasso, da qualche giorno è stata allestita una denso struttura dove è stata riproposta la mostra fotografica esposta già all'ex Gil per ripercorrere i 60 anni della Virtus. un 2019 di celebrazioni per la società nata nel lontano 1959. Inoltre, per chi vuole studiare circa 8 km della Sue Giuma, potrà testare il circuito con la postazione di realtà virtuale e ricevere informazioni sui monumenti e luoghi di interesse indossando un visore. Questa edizione sarà in ricordo di Domenico Fratianni, l'artista molisano recentemente scomparso, che ha sempre disegnato le medaglie della manifestazione ed anche per questa edizione è stata ideata proprio da Fratianni. Per l'edizione numero 47, invece, il club ha aperto un contest per disegnare la medaglia della prossima edizione. Il gruppo sportivo Virtus è una società storica, ma al passo con i tempi. Il club ha aderito al progetto Zero Was Blue, eventi sportivi a impatto ambientale zero per lo sviluppo del territorio, approvato all'interno del programma Interreg Italia Croazia 2014-20. Lo scopo è quello di allungare la stagione turistica grazie ad eventi sportivi verdi realizzati in siti significativi dal punto di vista culturale e naturale. Confermate inoltre lungo il tragitto le postazioni musicali con band molisane pronte ad alleggerire le fatiche del sali e scendi della su e giù. L'appuntamento dunque per domani, anche sotto la pioggia, per vivere insieme una domenica di condivisione tramite lo sport.